Grazie per Giorgio Di Freddi. Grazie a tutti. E quindi domani mattina a Piazza Ido Battistone alle 10 parlerà Alessandro Barbero con l'evento che era previsto questa sera a Piazza Battistone alle 22, a seguire Pier Giorgio Di Freddi con l'intervento che era già previsto per domani a Piazza Battistone e poi seguirà sempre lì Oscar Farinetti e altri eventi. Quindi nell'ambito della programmazione che abbiamo aggiornato e che trovate aggiornata sempre in tempo reale sul sito del festival, approfitto per dirlo perché c'è anche in sala Mario Tozzi e l'intervento di questa sera è stato posticipato a domani in mattinata. Poi l'orario ve lo daremo giù. Allora l'incontro è un po' particolare, è il secondo match di pugili virtuali che abbiamo organizzato un po' direi all'ultimo momento. Ieri ne abbiamo tenuto uno molto interessante e divertente tra Federico Rampini e Luca De Biasi su due concezioni opposte delle evoluzioni delle grandi major di over the top delle cinque grandi aziende americane che si occupano di web e commercio elettronico. L'idea è nata dalla presenza di entrambi i protagonisti per Giorgio Di Freddi e Guido Barbugliani su un tema che noi abbiamo in qualche modo richiamato nel titolo che razza di discorsi. Ma per contendere due protagonisti serviva un arbitro. Ieri l'ho fatto io, oggi due protagonisti hanno chiesto che voleva un arbitro Super Partes. Vedremo se sarà Super Partes. Un arbitro migliore di Alessandro Barbero non lo potevamo trovare. Grazie e buon ascolto. Bene, allora, buonasera a tutti. Grazie di essere qui così numerosi. D'altra parte fuori piove, quindi insomma. Allora, questo è un match, vedremo poi quanto sia davvero un match di pugilato, la cosa non è del tutto chiara. I due contendenti, beh, insomma, li conoscete da qui da tanto tempo. Guido Barbugliani, come dire, genetista, l'uomo che è in grado sulla base del DNA di spiegarci com'è che i nostri antenati hanno conquistato il mondo continente per continente. E' Pier Giorgio Di Freddi, matematico, logico, nonché, lo sapete tutti, grande appassionato di religione cristiana e di storia della Chiesa. E' sostanzialmente la cosa a cui dedica più interesse e passione nella sua vita. Siamo qui per capire se c'è un dissenso fra gli scienziati. Notate che uno storico è stato chiamato a fare da arbitro, vedete le facce che hanno fatto, infatti, si sono rassegnati a questa idea. Per vedere se esiste fra gli scienziati un dissenso vero, o se invece è solo questione delle parole che si usano, sull'esistenza o meno delle razze. Sì, sì, naturalmente, cioè i cocker spaniel esistono, su questo effettivamente sì, sì, i barboncini esistono. No, no, delle razze umane, certamente, bravo. Allora, qual è la questione? La questione è che qui ci troviamo di fronte a una cosa che è evidente nella percezione umana immediata e di cui non è così chiaro il fondamento scientifico. Io adesso parlerò due minuti per dirvi come l'ho capita io, in modo da dare a loro l'opportunità di dire subito no, guarda, appunto, non hai capito niente. Come l'ho capita io la faccenda? Siamo d'accordo sul fatto che Barbero ha torto, poi dobbiamo decidere chi di noi due ha ragione. Infatti, infatti, il dubbio che questo sia un vero match di pugilato nasce anche dal fatto che ho già constatato che entrambi mi hanno detto in realtà sei tu che hai torto. Noi abbiamo ragione tutti e due, ma vedremo. Allora, in realtà è una cosa seria, anche se qui cerchiamo di metterla in modo divertente. La cosa seria consiste in questo, che io non so quando è la prima volta nella storia che un finlandese ha incontrato un congolese. Potrebbe essere successo nel Settecento a San Pietroburgo, forse, alla corte dello Zar. Sono però sicuro che tutti e due hanno avuto la sensazione di trovarsi di fronte a un essere umano incredibilmente diverso. Il finlandese quasi sicuramente si è anche chiesto se quell'altro era davvero un essere umano. Il congolese anche, probabilmente. Dopodiché, per un bel po' di tempo, questa percezione immediata è stata considerata una cosa che esiste e che come tale gli scienziati dovevano semplicemente, come dire, ordinare. Le razze umane ovviamente esistono, perché ogni nero sobbalzava in Africa quando si trovava davanti per la prima volta un bianco. E allora a questo punto si trattava solo di mettere ordine scientificamente. Poi sono successe due cose, e qui sarebbe interessante capire la priorità fra queste due cose. E' successo che il concetto di razza applicato dai politici nel Novecento ha prodotto orrori tali che automaticamente si è diffusa una voglia di non parlarne proprio più. Contemporaneamente, o un po' dopo, gli scienziati hanno cominciato a dirsi che loro, di questa cosa apparentemente così evidente, non trovavano invece una conferma scientifica. In particolare, a livello genetico, dare una sistemazione, anzi no, riconoscere un'effettiva esistenza alle, tra virgolette, ormai, razze umane, sembrerebbe proprio che non si possa fare. Che se uno mette insieme due europei alti e biondi e con gli occhi azzurri, come il professor Barbugliani, e un coreano con gli occhi a mandorle e i capelli neri, è possibile che il coreano abbia più cose geneticamente in comune con uno degli europei di quanto loro non abbiano fra loro. Allora, a questo punto però il problema è, buttiamo a mare il concetto di razza dicendo che le razze non esistono. Ogni tanto la percezione che dal di fuori si ha dei biologi, degli studiosi di queste cose è quella. Ogni tanto hai la sensazione che loro siano gente che quando Toro Seduto incontra il generale Caster e gli dice viso pallido, il professor Barbugliani arriva e gli dice selvaggio e ignorante, le razze non esistono. Invece non è, mi sembra di capire, detto che mi sono preparato leggendo quel che loro hanno pubblicato, non è assolutamente così. Dunque questa è, come l'ho percepita io, la posizione del problema che ci permetterebbe forse anche di riflettere su che cos'è un fatto che esiste, un fenomeno che esiste nella percezione umana, nella cultura popolare o nella cultura to-cure eccetera e che cos'è un fenomeno che è invece scientificamente mappabile e dimostrabile. Le due cose non necessariamente coincidono forse. Dopodiché, siccome devo dare la parola prima a uno o prima all'altro, essendo di Torino come o di Freddi do la parola a lui, no, do la parola a lui perché lui è l'offensore, cioè lui ha pubblicato qualcosa che ha fatto sollevare qualche sopracciglio e dicono giusto, quindi abbiamo concordato che do la parola al professor Pier Giorgio Di Freddi. Temevo che dovessimo fare testa e croce. Naturalmente non avrei scelto croce perché per motivi ovvi. Ma dunque sì, è vero, io ho questa colpa di aver pubblicato vari libri, ciascuno dei quali è una colpa, ma in particolare quest'ultima colpa di aver pubblicato un libro che si chiama Dizionario della stupidità che è una cosa semi-seria, il che vuol dire che in parte è seria e in parte è provocatoria. C'è un esergo agli inizi, tanto per far capire il tono del libro, che è una citazione del musicista Brahms, il quale era nota avere un certo carattere, un po' focoso così, che un giorno andò a una festa e quando poi uscì si rivolse ancora per un ultimo saluto dalla porta e disse se ho dimenticato di insultare qualcuno chiedo scusa. E questo libro, anche questa citazione dovrebbe far capire che in parte è volutamente provocatorio. Questo libro mi è già costato l'invito al Festival di Sarzana, tu sei appena arrivato dal Festival di Sarzana e ti sarai accorto che non c'erano. Come mai? Perché l'altro anno quando ho presentato questo libro in una conferenza ho fatto anche degli esempi di stupidità, tratti in particolare da uno dei due bacini più ovvi dove la stupidità è in pera, uno è quello che hai già citato tu prima, cioè la religione, e l'altro è la politica. E ovviamente ho fatto anche dei nomi e cognomi, però per essere ecumenico, cioè rimanere nell'ambito della religione, ho citato i nomi dei tre grandi leader della politica ai quali ciascuno in modo suo rivelano tracce evidenti di stupidità, che erano Grillo, Berlusconi e Renzi. Ma non ti capita mica che a sedersi nella prima fila del Festival c'era il sindaco di Sarzana il quale, guarda caso, era un renziano e ho percepito subito dopo la conferenza che c'era un po' di freddo e così via, quest'anno quando è uscito il mio nuovo libro che domani presenteremo, la Rizzoli ha chiesto due mesi fa o tre mesi fa al Festival di Sarzana, dice c'è il nuovo libro, dice no, no, noi il programma l'abbiamo già terminato tre mesi prima, cioè quando si sa che i festival fino al giorno prima ancora sono lì che il Danco infatti lo sa benissimo, io ho trovato un po' strano la cosa ma ho capito l'antifano. E' stato invece invitato Renzi per rimediare al mal tolto personalmente dal sindaco di Sarzana ma gliene incolse perché ovviamente Renzi andava a presentare un libro che era un oggetto di carta che però parlava ovviamente di politica e il presidente della regione, vedo che molti non so, qui non funziona o c'è anche qui il sindaco, non lo vedo, lo conosco perché l'ho visto ieri ma non c'è e poi non so se sia renziano ma non sto parlando di Renzi, quest'oggi parliamo d'altro e il presidente della regione Liguria che come voi sapete non è un renziano perché si ispira al modello di Renzi e non all'imitazione ha deciso di togliere la sponsorizzazione al festival e allora Renzi si è offeso e ha detto che non andava a Sarzana e tutto questo pasticcio è nato da una voce di questo dizionario la voce che invece provocherà il pasticcio quest'oggi, in realtà noi con Barboiani siamo abicissimi e tra l'altro abbiamo già parlato anche prima di questo dizionario, di questo problema delle razze è appunto per questo che quello che è scritto sul dizionario non va tanto bene non va tanto bene, però io adesso vi leggo, così almeno sappiamo di che cosa parliamo sono due le voci credo incriminate la prima si intitola razze e razzismo e dice questo, sono breve cose quindi si possono leggere velocemente l'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana spero che non ci siano padri fondatori in sala recita, virgolette, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche condizioni personali e sociali questo articolo non era tra l'altro impredicato di riforma nemmeno nella riforma renziana suppone dunque quest'articolo, dico io qui che così come esistono i sessi, le lingue, le religioni, le opinioni, le condizioni esistano anche le razze ma stabilisce che non si possa essere discriminati in base ad esse i geni del politicamente corretto i geni del politicamente corretto hanno invece deciso che il modo più semplice spiccio per eliminare la discriminazione razziale sia cancellare la parola razza dal dizionario o dal vocabolario ma poiché i geni della biologia non si sono ancora adeguati i figli di genitori bianchi continueranno imperterriti a nascere bianchi e analogamente per gli altri colori a testimonianza della natura genetica delle varie razze umane e questo credo che sia il punto del contendere lo stesso però, e qui diventa più sottile la cosa perché lo stesso succede per le razze canine o bovine ma per fortuna nessuno ha, ancora tra parentesi, proposto di parlare di etnia, chihuahua o chianina e poiché le cose continuano ad esistere anche se gli struzzi nascondono la testa sotto terra i padri costituenti sono stati sensati a sottolineare che ci sono sia i sessi sia le razze ma che questo non giustifica né il sessismo contro le donne né il razzismo contro le razze cioè l'argomento in luce è che esistono due tipi di correttezza c'è una correttezza, se così vogliamo chiamarla, scientifica cioè le cose stanno come stanno perché si parla di fatti e c'è una correttezza politica invece che dice che le cose comunque stiano bisogna dirle in un modo o nell'altro perché si parla di valori ora la differenza tra fatti e valori è una differenza antitetica ovviamente i fatti sono ciò di cui si interessa la scienza, detto così in maniera un po' grossolana e i valori sono ciò di cui si interessa l'umanesimo quindi sono due parti diverse ora sappiamo tutti il motivo, l'hai già citato anche tu per quale motivo la parola razza è una parola seccante, no fastidiosa perché ci sono stati dei geni della politica ovviamente i quali hanno pensato che si poteva fare questo sillogismo che in realtà è un paralogismo di dire se ci sono razze diverse di uomini allora qualcuna sarà migliore delle altre e qualcuna sarà peggiore allora noi andiamo a vedere quali sono migliori e peggiori e poi quelle peggiori facciamo fuori e le eliminiamo questa è l'ideologia in parte del darwinismo cosiddetto sociale che è una brutta parola perché riferisce a Darwin quello che poi in realtà appunto sono i politici che pensano e in parte è l'ideologia del nazismo che ovviamente anche precedente al nazismo come tu stesso hai ricordato non c'era bisogno di Hitler per far arrivare a questo mondo i razzisti allora io sono d'accordissimo sul fatto che se uno vuole cancellare la parola razza perché questo poi porta con sé queste armoniche come direbbero i musicisti sul tono principale cioè questi doppi significati e allora è bene non parlarne però i genetisti e i biologi più in generale continuano ad usare la parola razza nel caso per esempio dei cani, degli animali d'allevamento e così via e di dire no ma lì le razze ci sono e soltanto negli uomini che non ci sono allora i miei argomenti sono due o tre che adesso elenco ma la cosa paradossale ed è questo che anche può far pensare è che c'è una razza che tutti abbiamo in mente quando si parla in maniera magari inconsistente delle razze umane che è quella che poi ha generato nella prima metà del Novecento i problemi che la parola razza si porta dietro ed è l'etnia o come volete chiamarla della razza ebrea ora la cosa interessante e qui c'è anche una voce su ebrei così ci togliamo tutti i denti diciamo così e così il problema era la voce che hai già letto era quella lì però anche questa è legata perché è la cosa interessante e qui la voce di nuovo molto velocemente ebrei fa riferimento anche ad altre cose perché poi tra l'altro si potrebbe discutere in maniera molto simile anche delle questioni di genere perché la Costituzione cita i sessi e sul sessi uno potrebbe dire ma no è ovvio che i sessi ci sono maschi e femmine non ci mancherebbe altro invece no perché il politicamente corretto oggi ci comincia a dire che nemmeno i sessi esistono e ci sono tutte le varie gradazioni su quello si potrebbe parlare io ho anche una voce gender ma che non tocchiamo oggi perché altrimenti non ci sono altri festival che potrebbero invitarmi per poi non invitarmi mai più e quindi non sprechiamo tutte le voci così ma sugli ebrei è interessante questo fatto perché la voce dice questo mentre i grandi matematici i grandi scacchisti e i grandi compositori sono praticamente mi scuso con la metà del popolo che è qui che segue sono praticamente assenti fra le donne e poi c'è un riferimento alle donne in maniera imbarazzante per queste ultime è abbastanza interessante il fatto che non ci siano grandi matematiche non ci siano grandi scacchiste ecco la è al fondo non ci siano grandi compositrici poi so benissimo se invece di barbugliare qui ci fosse una femminista so benissimo quali sarebbero gli argomenti ma le donne sono state eccetera però rimane il fatto che le cose così in maniera imbarazzante quindi per le donne abbondano invece grandi matematici grandi scacchisti grandi compositori fra gli ebrei in maniera altrettanto imbarazzante questa volta per noi per tutti coloro che non lo sono ebrei per il resto dell'umanità sono soprattutto gli askenaziti di origine est-europea il cui nome tra l'altro significa appunto tedeschi in ebraico a manifestare abilità intellettuali ben sopra l'ordinario sentite le cifre ad esempio mentre solo il 2% degli statunitensi discende da askenaziti 2% il 25% dei premi nobel statunitensi è stato vinto da askenaziti ancora più straordinariamente mentre nel mondo gli ebrei sono solo il 2 per mille della popolazione tra i vincitori del premio nobel gli askenaziti sono il 20% c'è una differenza di 1 su 100 tra la proporzione c'è qualcosa che non funziona il premio nobel è soltanto un esempio perché i vincitori della medaglia filz sono il 25% askenaziti i campioni del mondo di scacchi sono il 50% ora questo e questo è il punto che interessa qui in questa discussione paradossalmente benché a volte si neghino le razze per evitare l'antisemitismo e la motivazione è più che giustificata gli askenaziti sono una delle migliori prove dell'esistenza delle razze perché sono passati 700 anni fa in un collo di bottiglia che è uno dei tipici meccanismi attraverso i quali si formano le razze e poi le specie perché questo poi è il nocciolo della questione che li aveva ridotti pensate voi a 350 individui cioè i progenitori di questi 20% di premi Nobel 25% di medaglie filz eccetera 700 anni fa erano diventati 350 a rischio di estinzione in seguito si sono accoppiati in maniera endogamica che è un altro dei meccanismi attraverso i quali si formano ovviamente le distinzioni di razze che poi producono le specie e hanno sviluppato per deriva genica e adattamento che sono ovviamente gli altri modi in cui le razze nascono molti geni specifici responsabili da una parte di malattie caratteristiche e dall'altra parte probabilmente anche di questo alto grado di intelligenza che gli aschenaziti hanno ora cosa significa razza e cosa significa specie perché poi è anche questo il problema l'atto del contendere dunque se uno legge il libro di Darwin cioè l'origine delle specie che ha quel titolo perché poi spiega esattamente questo l'inizio chi di voi l'ha letto se lo ricorderà non guardo da questa parte perché ovviamente è chiaro che i genetisti i biologi lo conoscono però l'inizio di questo libro parla appunto della selezione artificiale di come si sono create razze animali e vegetali attraverso la selezione artificiale dei caratteri poi Darwin ci spiega che cosa sono queste razze che cosa sono queste specie il problema mio che sono un matematico dunque non un genetista non un biologo bensì un matematico un tipo un po' particolare cioè un logico è che le definizioni di razze di specie fanno acqua da tutte le parti anche quella di specie stamattina abbiamo sentito per esempio la bellissima conferenza a tre a cui partecipato anche Barbujani Pievano qui non so se ci sia anche il terzo partecipante e ci hanno raccontato che c'erano tante specie di uomini una delle quali siamo noi e la definizione che di solito si dà di specie è un gruppo di individui che sono in grado di anzitutto di procreare una prole e poi questa prole deve essere fertile però le specie che sono state citate per esempio questa mattina cioè l'homo sapiens da una parte e l'uomo di Neanderthal dall'altra sono specie quindi si parla di specie che dovrebbero essere separate fra di loro che però ad un certo punto non solo sono state in grado di accoppiarsi ma anche di procreare prole fertile perché noi portiamo i geni degli uni e degli altri dentro di noi allora la nozione di specie che credo derivi sia la definizione di Maier che diede a un certo punto è una definizione molto generica che ovviamente non tiene conto di quali sono effettivamente tutte le specie esistenti è una definizione che dal punto di vista matematico fa acqua perché dovrebbe essere una relazione di equivalenza cioè il concetto di specie in particolare dovrebbe essere transitivo se io ho la stessa specie tua e tu hai la stessa specie sua io dovrei avere la stessa specie sua e invece sono noti casi di specie in cui queste cose avvengono ma poi ad un certo punto il primo e l'ultimo elemento di questa catena in cui ciascuno è collegato dal fatto di essere la stessa specie non lo sono più quindi questo già ci fa capire che anche un concetto così fondamentale per la genetica e per la biologia come quello di specie è un concetto che è molto mal definito e non so poi se ci siano delle definizioni che sono accettate e accettabili da tutti a maggior ragione la stessa cosa succede per il concetto di razza che è semplicemente un concetto di sottospecie ora per quale motivo uno deve parlare di razze? beh Darwin l'ha spiegato molto bene nel suo libro c'è un capitolo dedicato alla formazione all'origine delle specie e l'idea è che le specie che oggi esistono una volta erano razze di una specie diversa che poi si è speciata cioè le razze sono specie in divenire e le specie invece sono razze che hanno speciato a loro volta e allora il concetto di razza è un concetto fondamentale per l'evoluzionismo senza le razze non ci sarebbero le specie perché le razze sono un passo avanti verso la separazione che poi ad un certo punto porterà a una separazione che impedisce proprio di procreare appunto e di mandare avanti i propri discendenti e lì finiscono le cose se non ci sono le razze non ci sono le specie questo è uno dei cardini diciamo così del darwinismo ma l'altro cardine fondamentale del darwinismo è che non c'è nessuna differenza tra l'uomo e le altre specie animali o gli altri esseri animali cioè noi siamo esattamente per tutti gli altri animali e allora per me sentire queste cose di dire sì le razze ci sono per i cani per esempio ci sono per le mucche e così via ma non ci sono per gli uomini mi stona un pochettino mi sa anche un po' di antidarwinismo perché significa che noi non accettiamo il fatto che dentro gli uomini ci siano dentro la specie degli uomini ci siano in atto quei meccanismi che ovviamente dovranno prima o poi portare secondo la storia evolutiva a una separazione anche della specie umana in specie differenti poi che se ne andranno gioscune per i fatti loro è ovvio che questi fatti avvengono in tempi mi dispiace usare questa parola ma forse dovrei dire geologici stavo per dire biblici ma non è l'argomento giusto in tempi geologici e quindi queste sono semplicemente le mie obiezioni al discorso di Barbugliani io non contesto ovviamente nessuna delle cose che sono state dette stamattina ci mancherebbe altre quelli sono fatti però contesto il fatto che esistano dei concetti precisi di specie e di razza in modo che noi possiamo usarli tra l'altro poi Barbugliani Stratina ci diceva se noi guardiamo la genetica succedono certe cose ma benissimo ma ci sono tante differenze perdono ci sono tante definizioni che sono state date di razza e quella attraverso la genetica è una tra l'altro mi piacerebbe che tu poi adesso la specificassi per bene e ci dicessi che cosa significa che quando uno legge il genoma di due individui dice ah lo guardo e questi due individui appartengono a due specie diverse oppure appartengono a due razze diverse se sono per esempio animali di razze diverse eccetera guardando al genoma cosa si guarda la lunghezza del genoma la differenza la percentuale di differenza quello mi sembra che se così è sia una definizione un po' superficiale perché ovviamente la differenza potrebbe essere in parti del genoma che hanno poco interesse bisognerebbe forse guardare la differenza il numero dei geni significativi di queste specie o razze e così via quindi le mie obiezioni diciamo così non sono ovviamente ai fatti della biologia ma sono all'aspetto logico quali sono le definizioni di specie e di razza e una volta date queste definizioni perché nell'uomo non ci dovrebbero essere delle razze mentre invece si può dire che ci siano tra gli animali se invece uno vuol cambiare la parola e dire nemmeno tra gli animali non usiamo più questa brutta parola mi va benissimo ne usiamo un'altra però tutti voi vi siete messi a ridere quando abbiamo detto etnia chianina o chihuahua e dire etnia ebraica per esempio etnia nera o che ne sono o qualcosa così cioè farebbe ridere probabilmente nello stesso modo mi sa appunto un po' di politicamente corretto il non voler chiamare le cose con loro nome quindi queste sono le mie obiezioni e ora mi taccio perché sono curioso anch'io di sentire le ecco do la parola do la parola a Guido Barbugliani dopo però aver fatto una considerazione che chiunque di voi può aver fatto poi siete tutti frequentatori di festival quindi sapete come vanno le cose però è importante bisogna rifletterci su secondo me noi tre quarti d'ora fa ci siamo detti allora come andiamo facciamo così un primo giro ognuno parla dieci minuti se non che adesso ce l'ho io il microfono Pier Giorgio se non che in dieci minuti non si riesce a spiegare bene un concetto non ci si riesce a malapena ci si riesce in mezz'ora i nostri politici si esprimono soltanto mediante twitter ormai solo una battuta però se uno se uno parla molto veloce si sa che quando si va veloce il tempo scorre più lento quindi io ho parlato dieci minuti perché ho parlato molto maledetti scienziati a te hai dieci minuti hai tutto il tempo che vuoi tanto da qua non ci cazzano fino alle sei ma forse ma forse ce ne ne accavo in poco più di dieci minuti io e Pier Giorgio Di Freddi siamo amici però proprio perché siamo amici bisogna dirsi le cose con chiarezza con franchezza e io ho l'impressione che ti stia facendo una grandissima confusione mescolando il piano delle parole il piano dei dati scientifici e il piano dei dati sociali che sono un'altra cosa e la confusione comincia dalla parola stessa razza perché è una parola indefinita essa stessa si può usarla per definire tutta l'umanità vi ricordate Albert Einstein quando gli chiedono a che razza appartiene risponde a razza umana 7 miliardi e mezzo di persone oggi poi ci sono quelli che dicono la razza bianca la razza gialla che sarebbero meno di 7 miliardi poi c'è la razza piave che ci ha salvati dall'austriaco sono ancora di meno e quando si dice che uno è l'ultimo della sua razza vuol dire che stiamo parlando di una famiglia con questo termine quindi la parola razza in sé per sé va definita se no ognuno ha in testa una definizione diversa e non è una sorpresa se alla fine non ci si mette d'accordo ha delle valenze positive e negative se uno vi dice che siete un centravanti di razza vuol dire che fate molti gol però razza di idiota non vuol dire la stessa cosa proprio per questo per delimitare il campo noi discutiamo per fare chiarezza vero Pier Giorgio non per fare confusione allora per delimitare il campo ad un ambito più facilmente trattabile con i criteri della razionalità che ci accomunano i biologi non parlano di razza in generale ma parlano di razza biologica cioè di quella cosa che tu hai descritto secondo la lettura la lettura darwiniana è verissimo che il concetto stesso di specie oggi è messo in discussione e ci sono alcuni casi bizzarri di cui se volete parleremo ma non è tanto importante è chiaro che se il concetto di specie che storicamente era il meglio definito di tutti nella classificazione degli organismi vacilla ancora di più vacilleranno degli altri concetti meno definiti però ci sono delle definizioni operative che noi che siamo dei praticoni non siamo dei logici matematici siamo della gente che vuole trovare delle risposte così possono utilizzare e in molti casi questi concetti operativi funzionano operativamente quando ci sono dei gruppi di individui della stessa specie che sono ciascuno in un ambito geografico diverso in uno spazio geografico diverso e che hanno delle caratteristiche in comune riconoscibili e si parla di razze sottospecie gli scimpanzè hanno le razze sottospecie ci sono quattro gruppi di scimpanzè in Africa e un esperto se gli date un pezzo di DNA di questi scimpanzè vi dice con la massima sicurezza con meno dell'uno per mille di errore a quale dei quattro gruppi appartiene questo scimpanzè sconosciuto lì si può dire che le razze esistono sono fatti tutti così gli organismi viventi ma no provateci con i tonni se voi pescate un tonno a pinna gialla non siete in grado nemmeno se convocati il massimo esperto mondiale di dire se questo tonno a pinna gialla proviene dal Pacifico dall'Atlantico o dall'Oceano Indiano e vale per tantissime specie molto mobili vale per tantissime specie di uccelli per esempio e viceversa gli scimpanzè le tartarughe certe piante che invece sono attaccate a un certo territorio tendono a differenziarsi nel modo che Pier Giorgio Di Freddi ha descritto brillantemente traendo sintetizzando l'origine delle specie di Darwin quindi ci sono due situazioni e dal punto di vista biologico è legittimo c'è un consenso che si parla di sottospecie o razze appunto quando c'è questa possibilità di attribuzione di un individuo a un certo gruppo con un margine d'errore piccolo o piccolissimo per l'umanità se qualcuno di voi ha seguito la chiacchierata di stamattina non è assolutamente così non è assolutamente così e lo provano due classi di dati che vi riassumo in un minuto uno e questo l'ha notato anche Darwin i tentativi che si sono susseguiti dal 700 a oggi di arrivare al catalogo delle razze umane e se stiamo parlando di un oggetto scientifico vuol dire che questo catalogo deve essere unico riconosciuto da tutti quanti i tentativi che si sono succeduti dal 700 lasciando da parte quelli degli squilibrati perché ce ne sono stati alcuni anche molto interessanti dal punto di vista dadaista creativo ma che non avevano alcun fondamento comprendono da 2 a 200 razze umane differenti anche Darwin non nell'origine delle specie ma nell'origine dell'uomo dice ragazzi se non vi mettete d'accordo su quante razze umane ci sono io vi direi vi consiglierei di smetterla di usare questo concetto perché dice lui uno scienziato non ha diritto di dare un nome ad un oggetto che egli stesso non riesce a definire quindi Darwin stesso che non conosceva il DNA ma era tanto intelligente capisce che in questo business delle razze umane c'è qualcosa che non funziona dopodiché la genetica si è messa a fare il suo mestiere a leggere dei genomi a leggere questi 6 miliardi e mezzo di molecoline di lettere la metafora che si usa è quella delle lettere il genoma con un grande testo con 6 miliardi e mezzo di caratteri di cui noi conosciamo l'alfabeto le 4 lettere A, C, T e G che sono delle molecole diverse le proprietà del genoma le proprietà dei nostri geni dipendono dalla successione dalla sequenza di queste lettere e dicevamo appunto che il genoma è una cosa che noi riusciamo a leggere anche se non riusciamo pienamente a capire ne capiamo i pezzi ne capiamo la grammatica ma la sintassi ci sfugge ed è per questo che non siamo ancora in grado di prevedere il cancro di prevedere il diabete o addirittura leggendo completamente il genoma mio o suo di dire quanti centimetri siamo alti o quanto è il nostro giro vita quindi siamo ben lontani dall'aver capito tutto ma una cosa molto semplice che sappiamo fare è fare dei confronti si prende il genoma di Pier Giorgio Di Freddi e il mio li si mette di fianco e poi si guarda quanto abbiamo in comune e quante differenze ci sono e il risultato abbastanza stupefacente è che indipendentemente da dove prendete i vostri soggetti le differenze sono sempre dell'ordine dell'uno per mille un po' di più se prendete delle persone da continenti diversi un po' di meno se le prendete tra vicini di casa però come ha riassunto molto bene Alessandro Barbero la cui presenza qui io rivendico come indispensabile perché sono le persone colte di un altro ambito che ti beccano in contraddizione se tu gli racconti sempre la stessa storia come diceva giustamente Alessandro Barbero all'inizio di questa chiacchierata ci sono dei casi in cui due persone che a noi sembrano visivamente molto molto simili si rivelano avere un DNA che è più diverso fra di loro di quello del DNA di un coreano non è un esempio fatto a caso è un dato di fatto quindi dal punto di vista biologico è assolutamente improponibile nella ricerca attuale parlare di razze umane assolutamente improponibile lo si sa ci sono degli scienziati che lo fanno c'è una parte della ricerca clinica negli Stati Uniti d'America che continua a insistere con questo tema e a offrire la cosiddetta medicina razziale ai propri pazienti se volete ne parliamo dopo non è questo credo l'oggetto del contendere in questa occasione i cani Pier Giorgi questo te lo dovresti ricordare perché ne abbiamo parlato e mi ricordo che abbiamo scherzato su questa cosa che i pastori tedeschi sono tutti SS è vero e adesso ve la spiego ve la spiego Charles Darwin nel secondo capitolo se non sbaglio dell'origine delle specie si mette a parlare degli animali addomesticati perché capisce che sono un esempio di quello che la natura fa in tempi molto molto lunghi chi incrocia i cani i piccioni che a Darwin piacevano tanto i cavalli sta facendo nel suo piccolo un esperimento che riproduce una cosa che in natura succede e il risultato è che attraverso questi incroci controllati diretti da noi abbiamo dei cani grandissimi come gli alani e dei cani piccolissimi come i chihuahua hanno delle differenze così forti che uno scienziato proveniente da Marte le attribuirebbe addirittura a due specie diverse ma se andiamo a guardare il loro DNA ci sono le tracce di questa cosa adesso mi dispiace diventare un po' tecnico come l'ultima cosa tecnica che vi dico e poi vi lascio scorrazzare liberi per le strade di Camogli a meno che non ci si chieda di continuare questo dibattito nel DNA umano sono stati studiati 650.000 posizioni 650.000 lettere in cui c'è variabilità in cui possiamo essere diversi e sono state confrontate fra di loro 20 popolazioni quindi sono stati fatti 650.000 per 20 confronti e il matematico adesso ci dirà che cosa non per 20 scusatemi per 20 per 19 diviso 2 milioni di confronti non si è trovato un solo caso in cui una popolazione umana in una certa posizione del DNA abbia una certa cosa e un'altra popolazione umana sia tutta quanto omogenea e abbia un'altra cosa non c'è un caso in centinaia di milioni di confronti siamo tutti molto 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 mescolati nei cani ci sono dei lunghi pezzi di cromosoma che sono perfettamente identici in tutti i membri della stessa razza e questo fa una differenza la cosa di cui ridevamo qualche tempo fa è che c'è un gene particolare che determina una certa colorazione della pelliccia che si chiama S e che tecnicamente viene definito S grande o S piccolo e tutti quanti i pastori tedeschi sono tutti quanti identici perché hanno il gene S grande e quindi tecnicamente sono tutti quanti SS sembra una come dire una vendetta della storia ma è un dato di fatto ecco questa omogeneità nella nostra specie non c'è non c'è e basta detto questo ho ancora tre minuti Barbero tutti quelli che voglio è molto rischioso dirmi frasi di questo genere ma mi autolimito mi autolimito quando si è scritta la Costituzione io non credo che la Pira e Terracini stessero pensando a questo dibattito sia perché molti dei dati mancavano all'epoca sia perché le urgenze Pier Giorgio erano altre la Pira e Terracini avevano ben presenti le leggi razziali le quali leggi razziali anche se bisogna ammirare lo sforzo del regime fascista di dare un qualche fondamento scientifico alle proprie iniziative oggi questo scrupolo non esiste più oggi si può essere razzisti senza fare nessun tipo di ragionamento il regime fascista quando ha approvato le leggi le leggi razziali quando ha approvato le leggi razziali ha cominciato a discriminare un certo gruppo di persone non erano soltanto gli ebrei che pure sono state le vittime principali avevano in testa anche il fatto che in Somalia in Avessinia in Libia in Eritrea c'erano circa 10 milioni di persone sottoposte al dominio italiano a cui naturalmente non si volevano dare i diritti civili dei normali cittadini e la cosa che fa il regime è allora di appiccicare un'etichetta a queste persone nel libro bellissimo di De Benedetti sulla razzia nel ghetto di Roma di cui io non ricordo il titolo ma è la data della razzia del ghetto di Roma quindi cosa 10 ottobre 16 ottobre 43 De Benedetti dice bisogna prima di tutto crearli questi ebrei perché noi non avevamo l'idea di essere un gruppo di essere gli ebrei forti di questa esperienza alla luce di questa esperienza secondo me i padri costituenti si sono detti benissimo da questo momento in poi nel nostro paese né su base del sesso né su base delle opinioni politiche dell'oceto sociale né della razza e per razza intendevano le leggi razziali sarà più possibile discriminare le persone questa è la scelta che hanno fatto mi sembra molto difficile partire da questa decisione dei costituzionalisti per mettere in discussione le cose che dicono i biologi e i genetisti sono due discorsi diversi siamo passati al discorso sociale il razzismo non ha nessun bisogno di una teoria della razza all'epoca del fascismo questa teoria c'era oggi la teoria non c'è più e d'altra parte se ci pensate dire a uno tu questa cosa non la puoi fare perché sei negro tu questa cosa non la puoi fare perché sei immigrato tu questa cosa non la puoi fare perché sei povero sono tre affermazioni solo la prima delle quali è razzista ma sono del tutto equivalenti quindi quando ci si mette a parlare di diritti si entra in un campo diverso in cui si può essere discriminati su base razziale ma questa cosa non c'entra con il nostro DNA con la nostra natura biologica concludo dicendo che alla fine si potrebbe dire vabbè i vostri studi di genetisti in realtà cambiano molto poco la situazione è vero è vero è vero l'unica cosa secondo me che conta dei nostri lavori di genetisti nel dibattito sul razzismo a questo punto è il fatto che si cerca anche se qualcuno si oppone di demolire un mito e il mito è quello delle profonde differenze biologiche tra gruppi umani perché se queste differenze sono radicate nel DNA poi naturalmente non si possono eliminare mentre se si tratta di questioni di natura culturale si fa sempre fatica però l'adattamento è più semplice secondo me rendersi conto che queste differenze profonde e inevitabili fra i diversi gruppi umani sono una costruzione sociale e non hanno niente a che vedere con la nostra natura biologica secondo me questo è abbastanza importante sì ma prendo io possesso del microfono per qualche minuto ho deciso di farlo no beh a proposito di ebrei mi viene in mente la storia di quel vostro collega scienziato tuo collega Mario Fiorentini matematico del novecento che da ragazzo l'università di Sarvara l'università di Sarvara ah ecco il quale era un ragazzo romano nel 1938 il quale ignorava praticamente se non come un dettaglio curioso della storia di famiglia il fatto che il papà fosse ebreo e nel 1938 invece la famiglia Fiorentini dovette rendersi conto che il fatto che il papà era ebreo non era del tutto irrilevante Mario Fiorentini che poi di lì a poco o di lì a pochi anni entrerà nei gap romani e sarà uno dei protagonisti dell'attacco di Via Rasella prima di diventare appunto professore di qualche geometria misteriosa ecco la tua università Mario Fiorentini racconta nel 1938 quando sono uscito le leggi razziali mi è venuto un attacco così di orgoglio a me di essere ebreo non mi era mai fregato niente però ho deciso che invece in quel momento mi facevo ebreo e perciò sono andato dal rabbino capo di Roma a spiegargli questa situazione che volevo farmi ebreo e il rabbino capo di Roma mi ha ascoltato paternamente e poi mi ha detto ma caro ragazzo però lei è consapevole che c'è questa piccola difficoltà e dice Mario no lei non è ancora circonciso vero a quel punto Mario Fiorentini dice vabbè ho detto ci ripenso ancora un po' e non è più a proposito dei vari usi del termine razza appunto razza di idiota mi viene in mente quando Vittorio Amedeo II duca di Savoia aveva un ministro di una famiglia nobilitata da poco nobili di Mondovì i quali però erano spesso stati accusati invece di come dire congiure contro il trono più di uno di loro era finito al patibolo e quando quando Vittorio Amedeo II litigava con questo ministro gli diceva si ricordi che lei viene da una razza di impiccati tra l'altro si chiamavano Cordero di Montezemolo ma questo è un altro discorso detto tutto questo io avrei tante domande da fare a Guido ma par condicio chiede che adesso passiamo la parola a a Odifreddi a cui però vorrei fare una domanda poi non serve a niente perché ognuno in questi casi dice quello che vuole lui non importa cosa gli è stato chiesto da chi sta in mezzo però io ti volevo chiedere se le razze sono delle specie infieri diciamo così e nella tua prospettiva le razze umane esistono semplifichiamo evidentemente ecco tu dici esistono di fatto è un fatto che tutto quello che ha detto lui ti ha lasciato completamente indifferente come sempre succede quando si parte ecco quindi tu pensi che in futuro noi siamo destinati ad assistere sempre che l'umanità sopravviva al formarsi nei millenni nei milioni di anni non so quanto di specie umane che a quel punto saranno separate non si accoppieranno più fra loro non si riprodurranno più meglio efficacemente fra loro dunque anzitutto rispondo subito alla tua domanda ma non senza notare che Barbugliani non ha risposto a nessuna delle mie domande che adesso gli rifaccio comunque imperterrito perché io volevo appunto evitare che nel secondo giro ognuno ripetesse le sue tesi come avviene sempre le domande è ovvio scusami questo fa parte della teoria evoluzionistica il fatto di pensare che in tempi lunghi le specie si differiscono anzitutto si separano fra loro in razza e poi dopo queste razze prima o poi per motivi diversi che sono quelli che lui ci può spiegare bene e che sono poi 4-5 semplicemente i modi in cui le razze si separano diventano delle specie diverse se non fosse così noi continueremmo a sostenere che in realtà l'uomo è diverso dagli altri animali ci sono degli evoluzioni stiamo sostenendo che l'uomo è come certi animali che non hanno le razze e ci sono degli altri animali che hanno le razze ma tu dici per esempio tu dici che alcuni animali che hanno le razze sono gli animali che noi alleviamo in cattività Darwin invece quindi io non dico quello che dico io ma dico quello che dice Darwin ce l'ho qui la sua frase che mi sono andato a ricercare eccolo qua il fatto che varie razze aspettate l'ho messa bene ma poi queste cose queste pagine si muovono per i fatti loro dove dice comunque la sostanza di quello che dice se non riesco a trovarla è che eccolo qua gli uomini da parecchi punti di vista si possono paragonare appunto agli animali che sono stati addomesticati da lungo tempo cioè gli uomini sono esattamente l'analogo degli animali in cattività che poi vengono allevati e separati dagli allevatori così come le specie invece vegetali che sono separate dagli agricoltori ci sono oggi gruppi attualmente non domani ci potrebbero essere ma gruppi che hanno semplicemente una procreazione endogamica che rifiutano di sposarsi al di fuori del proprio cerchio di amicizie di parentele eccetera quello è un modo per mantenere una separazione anche quando vivi a contatto senza separazione fisica o geografica da altri gruppi uno di questi gruppi è quello che ho citato sono gli ebrei aschenazitti tu dici per esempio come rispondi alla domanda del fatto che c'è un gene che conosci benissimo il cromosoma Y di Aronne che determina per esempio l'appartenenza a uno di questi gruppi se la differenza deve essere biologica ci sono casi in cui c'è una differenza biologica quando tu trovi uno con sei il primo che dice che sono una razza di solito si parla di razza ebrea è una tua nuova proposta questa è una nuova razza che stai proponendo in questo momento quelle cose che io ho scritto qua che ovviamente non mi metto perché non essendo un biologo non me le sono le ho prese da un articolo invece di Corbellini che è un tuo collega che la pensa diversamente è lui che porta questi fatti che non credo che si sia inventato tra l'altro i meccanismi di formazione delle razze quelli che ho citato la deriva genica l'accoppiamento endogamico e così via sono i tipici meccanismi in cui si formano le razze per quale motivo dovremmo nascondercelo cioè esistono tra l'altro anche differenze genetiche c'è un cromosoma che distingue appunto gli appartenenti alla tribù levitica così si dice infatti si chiama il cromosoma di Aronne se questo è il modo di distinguere le razze c'è un riscontro genetico da questo punto di vista ma quello che volevo che tu mi dicessi invece perché questo mi interessa anche personalmente perché altrimenti è chiaro che continueremo ciascuno a dire le nostre cose non si può dire che esistono le razze ma se tu parli di razze e dici ci sono tra gli animali e non tra altri gruppi biologici qual è la definizione di razza che tu usi precisa e qual è la definizione di specie che tu usi perché altrimenti tra l'altro poi non sono le uniche due categorie che i biologi usano perché sopra le specie a partire dai generi e sotto le razze a partire dalle sottorazze e così via c'è una lunghissima classificazione i biologi parlano tranquillamente di una classificazione che contiene almeno dieci o dodici gruppi diversi e se ne parla a branca così a spanne perché ovviamente sono tutte nozioni che in logica si chiamano nozioni fazzi cioè non c'è una definizione precisa esattamente come quando tu prendi un girino e una rana e lo fotografi e c'hai un film che ti fa vedere l'evoluzione di questo girino e agli inizi nel primo fotogramma quello è un girino e nell'ultimo fotogramma quello è una rana ma se devi dire in quale momento questo è smesso di essere girino ed è diventato rana non lo puoi fare perché sono concetti sfumati il fazzi viene tradotto in genere in questo modo la mia critica che poi non è nemmeno una critica è di dire che questi concetti sono sfumati per l'appunto si usano in maniera molto approssimativa in tutti i casi per quale motivo solo nel caso delle razze umane bisogna abolirli e non nel caso delle altre razze tu dici ci sono razze canine ma dov'è la differenza esatta che ci dice quando due animali hanno questo percentuale di genoma in comune sono della stessa razza e quando invece no tu dici ci sono dei geni che distinguono effettivamente una razza dall'altra ma qui la cosa non è più soltanto sulla percentuale che invece tu hai citato per gli uomini che dice abbiamo al massimo uno su mille di differenza ci sono dei geni specifici ma forse che non ci sono dei geni specifici che determinano il colore della pelle tu dici non l'abbiamo mai trovato non l'avrete mai trovato ma quando due neri si accoppiano diventa il figlio nero quando due bianchi si accoppiano il figlio è bianco non vorremmo dire che questo è un miracolo non ci sarà qualcosa di genetico che lo determina e allora il fatto che noi non lo conosciamo non significa che poi un giorno non arriveremo a trovare il gene che dice per esempio il colore della pelle poi io non dico che quello sia la definizione di razza si potrebbe dare una volta le razze venivano classificate in base ai colori gialla, rossa, bianca e nera credo che fossero quelle quattro o cinque lì secondo me è una cosa molto superficiale ovviamente però mi piacerebbe sapere qual è la tua definizione di razza e qual è la tua definizione di specie sulle quali poi possiamo discutere te l'ho data ma eri distratto perché quando abbiamo detto prima quando abbiamo detto prima che un esperto sono concetti sasi siamo d'accordo su questo che un esperto di scimpanze ti riesce a dire con la massima precisione da quale delle quattro aree dell'Africa proviene un individuo di origine sconosciuta bene questa cosa con l'uomo non è possibile e l'abbiamo dimostrato stamattina per chi c'era con quell'esempio appunto ma questa non è una definizione di razza io vorrei sapere cosa significa razza io la definizione di razza posso ripetere le cose che hai detto tu prima il discorso che hai fatto su Darwin è valido sono dei concetti che si utilizzano servono per capirsi e poi bisogna stare un po' attenti quando li si utilizza il fatto che non siano rigorosamente definiti che ormai anche il concetto di specie non sia rigorosamente definito può portare a due cose o si cerca di capirsi e quindi si utilizzano questi concetti sapendo che hanno dei limiti o come mi sembra stia facendo tu si cerca di usare queste mancanze di chiarezza per fare una grande confusione noi vogliamo andare verso la chiarezza d'accordo e allora in molte specie animali esistono dei gruppi geografici definiti che è corretto chiamare razze sulle quali c'è il consenso degli esperti geografici si si gruppi geografici ad ogni gruppo geografico corrispondono delle caratteristiche genetiche nell'uomo non è così è chiaro che ci sono delle cose che caratterizzano degli individui per esempio se un bambino ha la malattia di Tay-Sachs è molto probabile che sia di origine aschenazita perché lì il tasso di questa malattia è più alto ma il 99% degli aschenaziti non ha la sindrome di Tay-Sachs quindi se tu hai delle cose molto specifiche in genere patologiche allora si può dire questa malattia mi indica una certa origine ma stiamo parlando di caratteristiche rarissime caratteristiche che accomunano tutti i membri di una certa area geografica non ne sono mai state trovate anche quando tu dici ma non puoi confrontare tutto quanto il genoma vai a cercare le parti significative questo è il progetto fallito di quelli che a partire dall'inneo hanno cominciato a considerare prima il colore della pelle e i tipi diversi poi non bastava allora il tipo di capigliatura che avevano poi gli angoli del cranio è un progetto scientifico fallimentare sono due secoli che si continua a procedere su questa strada senza arrivare a niente nel 61 Livingstone dice sapete che c'è ragazzi smettiamola di cercare le razze umane cerchiamo di capire le nostre differenze a livello individuale ed è da quel momento che abbiamo cominciato a capire qualcosa della storia che Telmo Pievani ha raccontato questa mattina è dal momento in cui abbiamo smesso di prendere sul serio le etichette razziali che attestano tanto a cuore che abbiamo cominciato a capire veramente qualcosa della nostra evoluzione la frase di Livingstone era diversa quella che stamattina tu hai postato diceva non dobbiamo più parlare di razza ma di Klein ma se certo se vogliamo cambiare il nome ma va benissimo ma Klein vuol dire gradiente vuol dire gradiente ma certo e allora quello vorrà dire che la definizione sarà quella posso intervenire a questo punto rivendicando appunto i ruoli di quello che non essendo uno scienziato adesso vi dice quel poco che ha capito lui e cosa ancora mi risulta poco chiaro a me sembra di aver capito che in realtà la definizione di razza Guido l'aveva data molto chiaramente fin dal suo primo intervento perché in sostanza aveva detto ma non l'ha data nemmeno nel secondo perché lui parla per esempio di distinzione geografica ma che c'entra su questo sono d'accordo con te che mi fa problema e ne parliamo però lui mi sembra che abbia detto c'è la razza quando il DNA ti permette di dire con chiarezza questo individuo appartiene a quel gruppo quest'altro individuo appartiene a quell'altro gruppo quindi è una definizione di qualche cosa che può essere individuato sulla base e solo sulla base del DNA sostanzialmente se il DNA non te lo permette non la chiamiamo razza è così più o meno grosso modo ecco dopodiché però effettivamente anche a me lascia perplesso questo fatto del frequente riferimento che anche tu hai fatto alla geografia perché come dire diversamente dalla lodola delle canarie l'essere umano negli ultimi 500 anni non ha fatto altro che spostarsi perciò mi è sembrato di capire che tu che voi ogni tanto ritenete rilevante il fatto che esseri umani di diversi continenti hanno in comune o non hanno in comune ma a me sembra che il continente in cui si abita dovrebbe essere privo di qualunque rilevanza dopo gli ultimi 500 anni di storia in cui i nostri antenati hanno trasportato africani in tutti gli altri continenti e così via mi sbaglio io è per caso che abbiamo colto tutti e due questo fatto di questo riferimento frequente alla geografia allora quando si parla di biodiversità umana che poi è il termine moderno che si usa per il dibattito che noi stiamo conducendo intorno a un termine dell'ottocento si fa riferimento a popolazioni che si presume siano state colpite molto poco dalle migrazioni recenti se noi andiamo a prendere l'americano classico cioè l'americano per le strade di New York e raccogliamo un campione di londinesi o di parigini noi non siamo in grado di distinguerli perché lì c'è un campionario completo di tutti i geni dell'umanità quindi quando si fanno questi ragionamenti si fanno a prendere come esempio degli stati dell'America gli indiani navajo o come stamattina se qualcuno era alla nostra cosa su Homo sapiens gli Yanomama cioè delle piccole popolazioni che si presume abbiano avuto un basso tasso di immigrazione quindi tutti questi ragionamenti sulla differenza dell'uno per mille tra due genomi umani sono basati su queste popolazioni di interesse antropologico se andiamo a guardare l'umanità come è fatta adesso c'è stato così tanto traffico che l'idea di riuscire ad attribuire un'origine geografica a un gruppo di individui sparisce completamente quindi siamo molto molto diversi dagli scimpanze non capisco il problema con la geografia che ha Pier Giorgio ci sono ovviamente due tipi diversi di speciazione uno è quello in cui due gruppi si separano e si vanno in posti differenti e poi ovviamente c'è una separazione geografica per esempio da una parte dall'altra parte delle Ande e così via ma ci sono altri modi di speciazione in cui le specie ovviamente convivono sullo stesso territorio quindi quello da un punto di vista di definizione di razza non può intervenire nemmeno di specie tra l'altro non può intervenire perché sono due modi diversi di speciare uno dei quali fa riferimento alla geografia ma l'altro no ci sono specie che convivono sullo stesso territorio nelle stesse nicchie e che però comunque si separano sono casi molto rari però i secondi della speciazione comunque gli uomini in particolare hanno fatto questo come ci avete spiegato voi stamattina non nel caso per esempio è chiarissimo che l'uomo non ha fatto questo l'uomo non ha avuto questi dubbi io dicevo nella storia che avete raccontato stamattina è chiarissimo che ci sono state specie che sono di uomini specie non razze di uomini che sono convissuti sullo stesso territorio erano specie diverse a parte il fatto che una delle domande che avevo fatto è come è possibile che due specie diverse poi alla fine abbiano dei successori come noi che hanno il DNA comune vuol dire che la specie è la ferma perché il concetto di specie dagli anni 50 si è evoluto oggi voi non vi preoccupate però di usare la parola specie per i neandertal e per l'homo sapiens come se fosse una cosa normale ed è una definizione tanto fazze come le razze è una parola che utilizziamo come fuzzy concept perché abbiamo bisogno di nomi per chiamare le cose però se uno guarda questi nomi con un po' di intelligenza li applica anche con una certa flessibilità non c'è dubbio che i neandertaliani sono distinguibili da noi perché i loro scheletri vengono classificati con assoluta sicurezza gli scheletri di quel periodo di tempo vengono classificati con assoluta sicurezza o come anatomicamente arcaici i neandertaliani o come anatomicamente moderni i nostri d'altra parte la nostra specie come sapete non va tanto per il sottile i maschi della nostra specie quando si tratta di riproduzione sessuata ma gli uomini scusami se la facevano anche con gli asini gli alpini ma non per questo venivano fuori delle proli che fossero feconde e quindi c'era la separazione posso finire quindi che noi abbiamo flirtato anche con le neandertaliane o i neandertaliani con le nostre antenate è assolutamente ovvio la nostra distanza rispetto alla pecora fa sì che se uno si accoppia con una pecora non produrrà dei figli la nostra distanza con i neandertaliani è molto inferiore e quindi in qualche caso di sicuro è successo la discussione e anche la differenza di opinioni fra Telmo e me riguarda il fatto che questi incroci con neandertal siano la base della genealogia di tutti noi o solo di alcuni è chiaro che in un ambito di sistemi molto più complessi quali sono quelli biologici e ancora più complessi sono quelli sociali è chiaro che certe definizioni rigide che sono molto utili in fisica e matematica non ti servono tanto questa è una domanda proprio per capire cioè tu dici che ci potrebbero essere degli umani che non hanno una parte di DNA del neandertal io ne sono convinto e questo non sarebbe una divisione tra specie per esempio verificabile dal punto di vista genetico no no un attimo scusami 4% c'è la differenza mentre tu stai parlando dell'uno per mille 4% del DNA degli uomini conosciuti ha una parte di neandertal 4% quindi cosa vuol dire secondo te vuol dire che la differenza del 4% è maggiore dell'uno per mille che tu dicevi che noi abbiamo invece in comune con tutti no no stai ancora facendo confusione spiegami dove io ti imploro io qui non sono in grado di aiutarli a mettere chiarezza purtroppo devono arrangiarsi fra loro ti imploro di non ingenerare ulteriore confusione allora c'è un uno per mille un po' di più dell'uno per mille del nostro genoma in cui siamo variabili il resto del genoma è costituito da basi identiche in tutti quanti ok ma io sto dicendo 4% del genoma è fatto di DNA neandertaliano se qualcuno non ce l'ha adesso ci arrivo guarda so che hai molto desiderio di apprendere tuttavia devi lasciare il tempo di spiegarti le cose allora nei pezzi in cui siamo tutti quanti uguali siamo tutti quanti uguali e quindi non si sa se quel pezzo ce l'ha dato il papà la mamma neandertal quel 4% è stimato nei pezzi in cui siamo variabili quindi lo misuri nel quel 4% di pezzi variabili e poi presuppone che questo 4% valga per tutto quanto il DNA quindi è 4% dell'uno per mille in realtà è misurabile in quel 4% dell'uno per mille però se in quell'uno per mille che tu puoi controllare trovi una cosa che ti sembra un 4% di DNA neandertaliano tu dici vabbè probabilmente la stessa percentuale si applica all'intero genoma quindi non è tanto complicata questa cosa comunque rimane la domanda se ci fosse un genoma in cui non c'è del DNA neandertaliano rispetto a coloro che invece ce l'hanno questo sarebbe una differenza di razza oppure no? ma io direi di no perché bisogna vedere come è distribuito è una differenza genetica però se tu trovi che tutti gli abitanti di San Marino non hanno il DNA neandertaliano e tutti quanti gli altri abitanti del mondo ce l'hanno io sarò felice di dire che c'è una razza di San Marino esempi di questo genere non esistono sono state studiate 650.000 regioni del DNA facendo 20 per 19 divisa 2 confronti non è stato trovato un singolo caso di questo genere di che cosa stiamo parlando Pio Giorgio? quello che hai detto tu io non lo sapevo nemmeno che ci potevano essere che ci potevano essere persone che non avevano il DNA vedi che ti distrai l'ho detto prima un momento allora adesso mi dispiace per voi ragazzi ma ho avuto segnali chiarissimi sul fatto che dobbiamo chiudere siamo tutti d'accordo che ci sono un sacco di cose che vorremmo ancora capire 5 minuti sì ma io me li prendo adesso ci sono un sacco di cose che vorremmo ancora capire noi poi ne parleremo magari più tardi uscendo e se voi volete fermarli e chiedergli potete farlo per quanto mi riguarda io vorrei capire di più in effetti questa faccenda della geografia perché se 4 razze di scimpanze corrispondono a 4 gruppi che vivono in zone diverse se noi esseri umani li prendiamo e li mescoliamo tutti quelle razze spariranno devo dedurne e non è che per caso questo è quello che è successo agli esseri umani no tu mi dici perché gli anomani che nessuno li ha mai toccati sono comunque anche loro indistinguibili geneticamente però Guido in realtà non mi puoi rispondere perché non abbiamo tempo e quindi semplicemente a me piacerebbe sapere da storico come fa il professor di freddi a sapere che 700 anni fa gli aschenaziti erano solo 350 me l'ha detto Corbellini tu credi a tutto quello che ti dicono insomma detto questo come vedete i problemi sono tanti ma noi dobbiamo lasciare libero il teatro e quindi semplicemente ragazzi voi non avete le palette rosse e blu pareggio allora beh ringraziamo innanzitutto i nostri tre protagonisti e io voto per Barbero per l'arbitro ma questo è un fatto personale e no non so se dopo questo incontro mi devo preoccupare per le cose che ha detto Pier Giorgio ma anche per le cose di Guido nel senso che io come ebreo di origine aschenazita non so se mi devo aspettare il premio Nobel oppure magari qualche sindrome ma insomma sono fiducioso per entrambe le cose io vorrei oltre a ringraziare loro ringraziare tutti voi dobbiamo fare un ringraziamento collettivo al teatro alla fondazione a Silvio Ferrari e Farida soprattutto per quello che ci hanno aiutato in pochissimi minuti a organizzare sia a Ridotto che qui questo splendido incontro è il teatro sociale di Camogli è il teatro della città è il teatro del festival è il teatro di tutti voi e devo dire che senza questo stupendo posto il festival avrebbe perso qualcosa e per fortuna invece l'abbiamo guadagnato e noi abbiamo un quarto d'ora per avviarci nel senso che alle 18 il sindaco ha detto che le attività pubbliche eccetera non c'è il coprifuoco quindi non siamo però gli eventi pubblici organizzati da noi ufficialmente dal comune devono terminare avremmo continuato a lungo ma tanto noi riprenderemo domani perché abbiamo in momenti diversi sia Alessandro che Pier Giorgio Guido potrà intervenire e fare domande provocatorie sia all'uno che agli altri e aspettiamo tutti quanti e anche altri domani quest'evento di oggi è stato ripreso in diretta streaming dai nostri tecnici sono stati fantastici i volontari lo sono stati ancora di più e voi siete stati meravigliosi grazie più precisamente ai miei e più ricordati e più probabilità di prendere quei miei vedi grazie